...viene direttamente da Glasgow, anche se vive da 35 anni ormai a Firenze fa l'insegnante di inglese, matrilingua all'università e al liceo linguistico. Un applauso per John. Grazie a voi e ringrazio a tutte le persone che hanno organizzato questa meravigliosa giornata. Io insegno l'inglese da Firenze e uso anche molte canzoni dei Beatles, di Bob Dylan, eccetera, che hanno riportato le mie lezioni. Ogni anno abbiamo sempre il torcere di fine anno e le canzoni di John Lennon figurano sempre perché ormai in tutto il mondo si conosce Imagine. C'è un messaggio particolare con cui i ragazzi si possono identificare, ecco, a distanza di quanti anni? 44 anni da quando è stato scritto, credo. E poi devo dire che questa figura dei Beatles ancora resiste dopo tanti anni, mentre altri dubbi sono stati dimenticati. Ecco perché sono contento di partecipare ad un evento così importante così non morirà mai con la musica che ci riempie il cuore, che ha una vita praticamente. Ok, well, here we go. Grazie a tutti. 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 . . Grazie a tutti. . . . Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.